Oltre passiamo la porta del favone Che ne dici di un cono di neve super succoso per tutti, chef Pippo? Ottima idea! Il salar de Uyuni C'è un'immensa distesa di sale sotto tutta quest'acqua Ma come facciamo a farli ruotare tutti quanti? Per far ruotare tutti quegli anelli dovete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per far ruotare tutti questi anelli? Un piccolo insetto che cammina? Un verme che ancheggia? O un uccellino che vola? Un verme che ancheggia? Ottima idea! Per far ruotare tutti questi anelli dobbiamo ancheggiare, ancheggiare come dei vermi! La dottoressa Dora ha bisogno di scoprire da dove provengono gli starnuti! Tu lo sai da dove provengono gli starnuti? Passi, passi, in fondo tutto quanto è lì I nostri passi intorno al mondo come un grande girotono Un ballo per ogni città che ti sorprenderà! Davvero un bel ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda, una coccinella! Io adoro le coccinelle! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super, fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E... saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Forza! Oltrepassiamo la porta della coccinella! Wow! Coraggio! Wow! A quanto pare qualcuno sta facendo una festa! Ma lo sapete fare, poi! Andiamo, amici! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un rinoceronte! Siamo passati dai dinosauri ai rinoceronti! Vediamo se dietro questa porta ce n'è qualcuno! È chiusa! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un albero! In punta di piedi! Allungatemi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, più le braccia tendiamo! E... saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Oltre passiamo alla porta del rinoceronte! Andiamo! Da questa parte! Guardate, amici! Sembra un negozio di scarpe! Sì, scarpe per i rinoceronti! Presa! Grazie, amici miei! Un fenicottero! Pensate che ci siano dei fenicotteri dentro? È chiuso! Ci occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una giraffa! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... Saltiamo! Chi è presa? Ottimo lavoro, amici miei! Oltrepassiamo la porta del fenicottero! Ops! Scusa! Wow! Guardate quanti fenicotteri! Vedete un'altra porta da qualche parte? Eccola lì! Proprio in fondo al parco! Credo proprio che sarà super facile! Eh? Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato la sala da ballo delle impronte danzanti! Sì! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Forza! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, amici! Ballate! Davvero un meraviglioso ballo, amici miei! Che cos'è? È una specie di puzzle! Guarda! Sono io! Se metti in ordine le caselle, viene fuori un disegno! Fammi provare, Daisy! Guarda! Il disegno è cambiato! Spesante! Un pinguino che ondeggia! Un pinguino che ondeggia! Ottima idea! D'accordo, amici miei! Per fare piccoli passetti prudenti sul ghiaccio, dobbiamo ondeggiare, ondeggiare, ondeggiare come pinguini! Guardate come ondeggio! Daisy è un bravissimo pinguino che ondeggia! Adesso diventiamo tutti i pinguini che ondeggiano! Siete sempre nella vostra bozzona? Super fantastico! Allora io conto fino a tre! E poi ondeggiate con me! Uno! Due! Tre! Ondeggiate! Mani sui fianchi Piedi allargati Braccia e gambe dritte Ondeggiate, pinguini! Ondeggiate! Siete fantastici! Ondeggiate! Ondeggiate! Ma vi prego, non bighellonate! Fa' attenzione, Daisy! E anche voi, pinguini! Come me, piccoli passi da pinguino fate! Altrimenti su questo ghiaccio scivolate! Oh oh! Ho poca energia! Ondeggiate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì, mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massimo po' potenza! Coraggio, pinguini! Ancora un po' dobbiamo ondeggiare! Se alla porta vogliamo arrivare! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Abbiamo attraversato il lago dei pupazzi di neve! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare poi! Andiamo, amici! Ballate con me! Davvero un bel ballo, amici miei! Che piccolo pupazzo di neve amichevole! Penso che potrebbe essere un amico di neve amichevole per sempre! E io sono un Daisy confuso! Dovresti portarlo con te, Daisy! Non si sa mai! Potrebbe tornare utile più tardi, sai! La terza porta! Guarda! Il polpo piagnucolante! Non è chiusa! Andiamo, amici miei! Impediamo a quel polpo piagnucolante di inondare tutto il mondo con le sue lacrime! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Ho un gatto! Su un monociclo! Deve essere un gatto che si esibisce in equilibrio! Che bello, voglio vederne uno! E' chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Come un albero! In punta di piedi... Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E... Saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Oltrepassiamo la porta del gatto in equilibrio! Andiamo! Da questa parte! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato la foresta Pop-Up! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! Bel ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un altro libro! Un libro di ricette! Chissà cosa bollì in pentola! È chiuso! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come una torre! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Sulle braccia tendiamo! E saldiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Oltrepassiamo la porta del libro delle ricette! Ops! Scusa! Questa è senza dubbio una cucina enorme! E lei è una bambina sicuramente enorme! Almeno credo che sia una bambina! Amici! Abbiamo attraversato il campo dei cucumeri che affondano! Ci siamo riusciti! Anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare poi! Forza! Ballate con noi! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Una banana! Una banana! È proprio vero che ai draghetti le banane piacciono molto! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super, fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come una torre! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E salpiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Coraggio! Oltrepassiamo la porta della banana! Andiamo! Do giocare a ping pong! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super, fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come una montagna! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E... E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici miei! Un tubetto di colla può aiutarci a rimettere le piume sulla coda dell'aereo? E sotto di cola! E qui sui sentita! Grazie a tutti.